Benvenuti alla rassegna stampa di oggi martedì 19 settembre e questa è la rassegna che tutte le mattine apre l'informazione sul canale 17 di Fano TV. Cominciamo dal santo del giorno vediamo subito il santo di oggi con la grafica, oggi è San Gennaro, oggi vedremo se si ripeterà il miracolo a Napoli San Gennaro è stato vescovo, il sole è sorto alle 6.51 del tramontale 19.12, oggi avremo tempo perturbato questa mattina siamo nel profondo inverno, almeno qua dalle nostre parti, per chi ci segue dalla provincia di Pesaro Urbino abbiamo in corso rovesci e temporali anche localmente intensi che si andranno ad esaurire nel corso della giornata domani 20 di settembre ancora tempo perturbato al mattino con rovesci e temporali diffusi, intensi in particolare lungo la fascia costiera centro-settentrionale, i fenomeni si esauriranno a partire dalle ore centrali della giornata per giovedì il tempo invece migliora, vedete con il cielo che sarà irregolarmente nuvoloso insomma temperature lieve ripresa, la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da condizioni di debole instabilità sul resto del calino di Pesaro questa mattina l'apertura è per l'ex AMGA congelata, nel senso che la bonifica in quest'area è ferma da un anno, i teloni si stanno rompendo, i residenti sperano di vedere il giardino promesso dal sindaco infatti si possono prenotare gli appartamenti della torre da costruire ma ancora come vedete dalla fotografia è tutto lì fermo Valentino Rossi va a Misano, fa quattro giri, poi però inizia a piovere, l'obiettivo è Aragon e il miracoloso recupero a pochi giorni da quel terribile incidente, insomma Valentino Rossi sorprende ancora tutti telecamere rotte invece e wifi obsoleto, la sorveglianza è appesa a un filo perché in via Colbe a Pesaro da un mese devono essere ripristinati un palo e il sistema di ripresa, intanto i vigili urbani non vogliono passare all'unione il Corriere Adriatico invece apre con la sforbiciata ai migranti, il problema dei migranti a Borgo Santa Maria da lì andranno via in 30, accoglienza alleggerita dopo le proteste, chiuderà una struttura dimezzata l'altra mentre la fotografia che pubblica questa mattina il Corriere Adriatico è per l'arte salvata dalle macerie del terremoto che però è finita, vedete, incelofanata, impacchettata tra i tarli e l'umidità opere custodite negli spogliatoi di un'ex fabbrica, depositi delle diocesi dunque giudicati inadeguati apriamo la pagina di Fano del resto del Carlino, il tema in primo piano è la nautica pronta a partire con i nuovi capannoni, nell'ambito del Marina Group risolti i problemi delle quote ex bugari a Timone Yacht sotto invece Maccherapina, facevolo l'elemosina, torna il resto del Carlino sulla vicenda dei due sacerdoti il capellano dell'ospedale Don Marco con il suo vice che sono stati avvicinati da una cinquantenne che ha puntato loro le forbici contro e quindi di sostanza insomma si tratta di una rapina lei però durante il processo si è giustificata, ho detto ho chiesto solo un euro ma loro sono stati così, insomma sono stati violenti e mi sono dovuta difendere la donna appunto che ha aggredito i due preti resta in carcere è una cinquantenne fanese originaria di Fratte Rosa Fano fiorisce, è l'appuntamento, la festa dei fiori insomma ecco quella che noi tutti chiamiamo la festa dei fiori Fano fiorisce, così si chiama, anche d'autunno sta per partire da domenica una settimana di appuntamenti legate alla festa alla mostra dei fiori bancarelle, laboratori per i bambini e anche musica ci saranno vetrine dei negozi addobbate a tema e i lettori voteranno la migliore, c'è questo concorso poi c'è la scuola, nuova scuola inaugurata giovedì in Africa a Cagnama, spero si dica così è in periferia di Lusaka in Zambia dove Italo Nannini, fanese, ha inaugurato il nuovo edificio appunto della scuola Shalom sotto invece la premiazione dei ciceroni che durante l'edizione di In Gir per Fan hanno accompagnato le migliaia di persone in giro per la città pensate almeno 280 volontari di 25 associazioni che hanno festeggiato alla cooperativa Tre Ponti e per tutti questi volontari e questi ciceroni sono davvero una ricchezza impagabile Canale Albani, il Canale Albani, siamo sempre sulle pagine di Fano del resto del Carlino Canale Albani a secco, lo vedete anche dalle fotografie, non c'è ancora l'acqua SOS all'Asur e loro dicono disinfestate subito perché insomma ci sono queste pozze d'acqua putride che si sono formate dopo le piogge e che insomma stanno creando non pochi problemi mentre di politica locale si parla qui sempre sulla pagina fanese del Carlino perché? Perché fra, insomma nel 2019 a Fano come molti altri posti si vota per le amministrative e dunque verso le elezioni si iniziano queste manovre il centrodestra sta facendo alcuni sondaggi convocate a cena le ex giunte di Aguzzi dove hanno preso parte a questo tavolo anche Riccardo Severi, Marco Paolini che però ha declinato, insomma manovre pre-elettorale anche se ancora c'è un anno e più abbondante andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino a Fermignano esce dal garage di casa e sbatte contro l'ape guidato dal vicino praticamente vicini di casa, abitano uno di fronte all'altro in via Ticino 3 e 4 nella zona del bocciodromo a Fermignano ieri mattina verso le 9 e mezzo, insomma questo 62enne Corrado Spini che stava uscendo a marcia indietro al suo garage non si è accorto dell'arrivo dell'ape piagge che è guidato da un 78enne, suo vicino di casa e alla fine insomma uno di questi due è dovuto andare all'ospedale tutti i dettagli sul Carlino di questa mattina andiamo a vedere adesso l'altra pagina, l'altro giornale il Corriere Adriatico e ripartiamo dalla pagina di Fanno l'ente ferrovie ritarda il piano di recupero dell'ex molino avete riconosciuto di quale edificio stiamo parlando questo edificio diroccato che si trova sulla statale 16 all'iter manca la cessione del terreno per la rotatoria di via Vittorio Veneto dunque manca solo un ultimo permesso per abbattere questo chiamiamolo così, oggi è un mostro, prima era un molino questo rudere che è testimone tra l'altro come scrive il giornale questa mattina di un afano da altri tempi che si trova in via Pisacane ridotto però ad uno scheletro di se stesso ormai non più recuperabile nemmeno come testimone di archeologia industriale scrive Massimo Foghetti questa mattina poi quest'anno Fanno fiorisce per una settimana da domenica l'iniziativa tema che anticipano la mostra di fiori e piante poi ci sganciamo da Duomo e GPA stiamo parlando di chi adesso dovrà riscuotere le tasse a Fanno Duomo e GPA, sapete, tagliata fuori noi non siamo affatto impreparati dicono quelli del Comune per la riscossione dei tributi per il sindaco e il personale locale dell'azienda è sempre stato corretto e poi Fanno premiata tra 15 città per la ciclabilità al Cosmobike Show c'è un'altra pagina, quella di Fanno che si occupa di sport tanti ragazzi si stanno iscrivendo a basket, rugby fanno questi due sport proseliti tra i giovani, i giovanissimi e anche i bambini solida attività giovanile delle due società fanesi per i corsi si spendono da 250 a 340 euro andiamo a Pesaro invece adesso perché a Pesaro vicino alla stazione sono iniziati i lavori le auto sono state rimosse ci sono adesso le transenne il parcheggio dunque dietro la stazione di Pesaro cambia pelle via ai lavori che riqualificheranno quest'area importante demolizione bonifica per 15 giorni poi 50 posti auto gratuiti quindi importante anche per chi deve prendere il treno e lasciare magari per una giornata o due la macchina una fiera e andiamo a Fossombrone una fiera senza alcun abusivo gli anni scorsi ricorderete insomma eravamo qui subito dopo la fiera di San Matteo di Fossombrone a parlare dell'invasione dei Vucun Praia e quant'altro invece quest'anno tutto è andato e filato liscio una fiera senza alcun abusivo grande successo il sindaco di Fossombrone Bonci gongola tutto contento e dice grazie alle forze dell'ordine perché il risultato insomma non era scontato sempre da Fossombrone assunzione perlomeno inopportuna l'opposizione attacca sulla riscossione nel mirino un parente di un componente di giunta e non è scrivono la minoranza di Fossombrone non è la prima volta adesso la pagina di Urbino invece del Corriere Adriatico siamo a Fermignano perché nei giorni scorsi questo signore che vedete con il microfono in mano è un consigliere comunale responsabile dell'Ufficio Europa ed è un marocchino ha ricevuto una lettera minatoria Yassine si chiama questo signore però lui dice io guardo avanti non tremo Fermignano è il mio paese e dunque c'è chi ha paura dice lui del cambiamento ma al centro c'è l'uomo tutto questo per evidentemente qualcosa che lui ha fatto qualcosa che lui ha organizzato e che lo ha messo a qualcuno evidentemente non è piaciuto e ha pensato di inviare questa lettera anonima siamo nel comune di Fermignano lo ricordo andiamo sulla Valle del Cesano invece perché c'è stato un blitz dei carabinieri dell'Asur al circolo di San Filippo c'è stata una multa per la mancanza di permessi sanitari i soci sono esasperati facciamo dicono loro attività sociale l'associazione ha 108 membri e che opera ormai da quasi 40 anni c'è qualcuno di invidioso lo dicono loro ma lo invitiamo a tesserarsi con noi la fotografia di questo signore invece è una fotografia vedete Nello Tonelli di Pergola ed era l'uomo trasportato dall'ambulanza che giovedì scorso ha avuto un incidente con un tir purtroppo questo paziente di 77 anni è deceduto per le ferite riportate appunto in questo incidente mentre rientrava da una visita all'ospedale di Fano accompagnato da un mezzo del 118 che poi si è ribaltato appunto dopo aver urtato questo grosso camion pesante domani ci sarà l'autopsia il consulente dovrà accertare se il decesso è conseguenza dello schianto dell'ambulanza andiamo invece adesso a Frontone perché a pagina 40 del Corriere Adriatico c'è questa bella fotografia di Alexander Sukorov con la sua assistente e questo regista russo è stato premiato da Animavì che è una rassegna che si è svolta appunto un festival che si è svolto nel mese di luglio è un festival Animavì internazionale del cinema di animazione poetico e praticamente ha premiato questo festival diretto da Simone Massi ha premiato questo regista russo e lui dice Massi è il collega più grande e questa è la notizia che viene riportata sul Corriere Adriatico di questa mattina torniamo un attimo sul resto del Carlino la pagina di Urbino l'Ateneo di Urbino è tra i 400 migliori al mondo tra i punti di forza, l'attrattività e l'eccitazione fatte dai lavori di ricerca sorpresa dalle statistiche internazionali quelli dell'Ateneo non se le aspettavano nemmeno e dicono però guarda siamo al 15esimo posto tra le italiane ci fermiamo a 600 iscritti per quanto riguarda le scienze motorie le strutture non bastano e dunque alvia nuovi lavori da Senigallia invece, siamo in chiusura il diktak dell'Asur spaventa i dipendenti misure drastiche per chi non si vaccina linea dura dopo il caso dell'ostetrica che ha contratto il morbillo lo ricorderete all'ospedale tra l'altro era nel reparto di ostetricia quindi insomma anche un reparto delicato i sindacati contro la lettera al personale Mancinelle della CGL dice grave l'atteggiamento dell'azienda i toni sono minacciosi perché dopo quell'episodio l'Asur spaventa i dipendenti stando al titolo e quindi ci saranno misure drastiche per chi non si vaccina immagino che avranno paventato il licenziamento o giù di lì e sempre per quanto riguarda i vaccini ma questa volta quelli obbligatori anche per andare a scuola o all'asilo niente asilo per due bambini non immunizzati entro ottobre i genitori dovranno produrre quindi la documentazione mentre sul lungomare di Senigallia sono stati abbattuti 57 americi per rifare i marciapiedi e protestano i residenti a Cesano dicono in 10 ore spazzate via tutte le piante noi ci fermiamo qui la rassegna torna domani mattina come sempre alle 7.30 salutiamo anche coloro che ci guardano in replica anche attraverso internet da ogni parte del mondo ci sono pesaresi, fanesi, marchigiani sparsi in tutto il mondo e c'è gente che ci guarda anche attraverso la rete attraverso internet noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhiala Notizia buona giornata Occhiala Notizia ci vediamo stasera